Noi collaboriamo già con il CNSA e anche con l'esercito, in vari soccorsi ci siamo trovati insieme ad operare, quindi queste esercitazioni fanno sì che rafforzano la nostra sinergia con tutti i gruppi, quindi è giusto lavorare insieme perché così ci si conosce, in realtà possiamo andare più svelti, più snelli nelle operazioni di soccorso, giustamente magari il pilota dell'elicottero che ci trasporta, ci conosce già, quindi sa come ci muoviamo e viceversa, tra i vari cani si conosce, quindi non c'è il rischio che poi in Valanga magari succedano delle cose strane che non dovrebbero succedere, però più esercitazioni facciamo insieme, più ci conosciamo, più lavoriamo sicuramente meglio in caso di realtà. La collaborazione con gli altri enti è importantissima, anche perché non siamo sempre a lavorare come in quelle situazioni lì, che sono a livello nazionale da soli ma con altri enti, quindi lavorando con gli alpini piuttosto che con altre associazioni o enti, è importante capire cosa può fare la nostra attività in sinergia con degli altri, in modo tale da essere operativi più velocemente per risolvere quotidianamente il problema che c'è. Oggi era necessario fare un test delle nostre capacità in sinergia con quelle degli alpini, in modo tale da provare una situazione di emergenza, in modo tale che quando poi si verifica in realtà sappiamo che cosa può dare un'associazione, il corpo degli alpini al soccorso alpino, come il soccorso alpino può dare agli alpini. È un'attività che noi svolgiamo quotidianamente, regolarmente, anche con altri enti, proprio perché è necessario essere operativi nelle varie emergenze.